In nomine Patris et Filii et Spiritus Santi. Amen. Laudetur Iesus Christus, sempre laudetur. Maria Sede Sapientiae, ora Pronobis. Continua la lettura dell'Imitazione di Cristo, Libro I, Capo XVIII, degli esempi dei Santi Padri. Considera i vividi esempi dei Santi Padri, in cui rifulse la vera perfezione e la vera religione, e vedrai quanto sia poco e quasi niente ciò che facciamo noi. Ahimè, che cosa è mai la vita nostra in confronto della vita loro? I Santi e gli amici di Cristo servirono al Signore nella fame e nella sete, nel freddo e nella nudità, nel travaglio, nella fatica, nelle veglie e nei digiuni, nelle orazioni e nelle meditazioni sante, nelle persecuzioni ed in molti obrobri. O quante e quanto gravi tribolazioni soffrirono gli apostoli, i martiri, i confessori, i vergini e tutti gli altri che vollero seguitare le vestigia di Cristo. Essi odiarono l'anima propria in questo mondo per possederla nella vita eterna. Oh, quanto austera e sacrificata vita condussero nell'eremo i Santi Padri! Quanto prolungate e gravi tentazioni sostennero! Quanto spesso furono afflitti dal nemico! Quanto frequenti e fervide preghiere offersero al Signore! Quanto rigorose astinenze! Quanto zelo e fervore nel progresso spirituale! Quanto accanita guerra per domare i vizi! Quanta purità e retitudine d'intenzioni servarono a Dio! Lungo il giorno lavoravano e le notti passavano in continua orazione, sebbene anche lavorando non cessassero punto dalle preghiera mentale. Impiegavano utilmente ogni istante, ogni ora sembrava loro breve per attendere a Dio, e la grande dolcezza della contemplazione faceva perfino dimenticare la necessità di ristorare il corpo. Rinnunziavano a tutte le ricchezze, le dignità, a tutti gli onori, gli amici, i parenti, del mondo nulla desideravano, appena è necessario prendevano per sostenere la vita, si dolevano di dover servire al corpo, ancorché per necessità. Erano quindi poveri delle cose terrene, ma molto ricchi nella grazia e nelle virtù. Stentavano al di fuori, ma erano ristorati interiormente, dalla grazia e dalla consolazione divina. Al mondo erano stranieri, ma prossimi a Dio ed amici familiari di Lui. Consideravano se stessi come niente, erano dal mondo stregiati, ma preziosi e diletti agli occhi di Dio. Stavano in vera umiltà, vivevano in semplice obbedienza, camminavano in carità e pazienza, perciò avanzavano ogni giorno in spirito ed ottenevano grande grazia presso Dio. Essi furono proposti in esempio a tutti i religiosi, e più debbono spingersi essi a vivere bene che non la moltitudine dei tiepidi a cadere nella negligenza. O quanto grande fu il fervore di tutti i religiosi al principio della loro santa istituzione! Quanta devozione nella preghiera! Quanta gara nelle virtù! Quanta esaltezza nella disciplina! Quanta riverenza! Quanta obbedienza! Fioriva in tutti sotto la regola del Maestro. Queste vestigia abbandonate attestano ancora di presente che santi e perfetti furono in verità quegli uomini i quali, sì valorosamente combattendo, si posero il mondo sotto i piedi. Oramai è riputato grande chi non trasgredisce la regola, chi può sopportare con pazienza lo Stato che abbracciò. A tiepidezza, a tiepidezza e negligenza nostra, che sì presto decadiamo dal primitivo fervore e quasi per la stanchezza del torpore ci torna a noia la vita. Voglie Dio che il progresso nelle virtù non saresti interamente in te, che spesso hai veduto tanti esempi di uomini veramente devoti. Laudetur Iesus Christus, sempre laudetur, in nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen.